bentornati e benvenuti oggi ci prendiamo cinque minuti del nostro tempo per investire nella nostra salute nel nostro benessere soprattutto nel nostro benessere psico emotivo vi sarà capitato alla fine di una giornata di avere la sensazione di avere corso affannosamente e di aver tralasciato magari qualcosa di non aver raggiunto gli obiettivi di non avere fatto tutte le cose questo è un peso che noi ci trasciniamo e accumuliamo giorno dopo giorno viviamo di corsa è sempre impossibile rallentare e che cosa ci perdiamo probabilmente ci perdiamo in serenità in qualità della vita ma che cosa possiamo fare come organizzarci la domanda è continuare a correre o provare a rallentare ne parliamo oggi con daniel lumera che ringrazio per essere con noi biologo naturalista riferimento internazionale nelle scienze del benessere della qualità della vita e della pratica della meditazione bentornato daniel buongiorno a tutti buongiorno nicoletta dovevo fare quella cosa ma non sono riuscita a farla e proverò a farla domani ma intanto il pensiero torna lì daniel che cosa e come possiamo fare per organizzarci allora innanzitutto si chiama effetto zai garnik ed è dovuto a lo studio di questa grandissima psicologa del secolo scorso che ha dimostrato che quando un compito non viene portato a termine si crea uno stato mentale di tensione costante cronico che impedisce praticamente alla nostra mente di iniziare un altro compito da zero quindi quando la nostra mente entra nel programma le cose iniziate vanno finite questo programma fondamentale il cervello continua a ricordarcelo fino a che non portiamo a termine quel compito e le disfunzionalità sono tantissime come avere un elastico nella nostra vita e non poter andare avanti perché dobbiamo sempre tornare lì pensate a quante cose abbiamo irrisolte magari un matrimonio zoppicante da anni quella telefonata che dobbiamo fare quel perdono che dobbiamo chiedere quella visita quella dieta che dobbiamo iniziare la nostra vita è piena di sospesi e noi possiamo dare dei consigli importanti soprattutto per quanto riguarda una regola una regola fondamentale che ci permette di invece risparmiare energia concludere le cose più semplici e poi avere più creatività per affrontare quelle più difficili ecco daniel prima di arrivare alla regola di cui tu parli nel tuo libro come se tutto fosse un miracolo una regola molto semplice e soprattutto efficace cerchiamo di capire quanti sospesi ci stiamo portando dietro o avanti insomma con cui dobbiamo fare i conti questo può essere d'aiuto perché probabilmente ne abbiamo talmente tanti che questo l'avere sospesi diventa un po' uno stile di vita uno stile di gestione allora innanzitutto prima ne ho citato alcuni le relazioni per esempio che sono concluse da tempo ma che trasciniamo moribonde oppure i litigi tra amici e familiari che rimangono anche nel silenzio per anni o le dispute al lavoro o le questioni personali come ho detto prima come la dieta l'iscrizione alla palestra però io credo che sia molto importante capire cosa c'è dietro i nostri sospesi e dietro i nostri sospesi ci sono brevemente quattro dinamiche la prima sicuramente una dinamica di paura cioè non porto a termine le cose perché ho paura che magari sia del successo e quindi delle responsabilità che questo comporta sia del fallimento quindi mi congelo per esempio ci sono tante persone che non riescono a concludere gli studi universitari perché hanno paura che dopo dovranno affrontare il mondo del lavoro che avranno delle responsabilità e quindi rimandano rimandano creano questo speso oppure per esempio c'è il perfezionismo come dinamica molto comune cioè l'eccesso di perfezionismo potrebbe condurci a una condizione di stasi non sentirsi mai abbastanza pronti rimandare all'infinito con la conseguenza che per paura di non farlo perfetto finiamo per non farlo mai un'altra dinamica è la dinamica dell'evitamento quindi la sensazione di non valere di non farcela o di non essere all'altezza di sentire vergogna di non essere degni anche questo ci porta appunto a una dinamica che crea sospesi e infine io credo che l'ultima è più letale tra tutte sia l'opposizione cioè abbiamo difficoltà a portare a termine un compito lasciamo quindi un sospeso perché non corrisponde a una nostra scelta autentica a un nostro bisogno reale quindi non ci appartiene davvero però magari stiamo solo cercando di dimostrare a qualcuno che valiamo oppure che ci prendiamo cura di lui quindi dobbiamo stare molto attenti a quali sospesi abbiamo e come creiamo i sospesi quindi quali sono le dinamiche che creano sospesi nella nostra vita perché il sospeso abbassa la qualità proprio della nostra vita e anche della nostra salute non ci permette di essere creativi di portarci completamente nel compito successivo è come avere una zavorra che ci tira indietro daniel andiamo alla regola la regola dei due minuti di cui tu parli nel libro come fosse un miracolo allora è una regola semplice ma estremamente potente la regola di due minuti è questa se noi l'applichiamo ad esempio a rispondere alle mail una cosa così banale però quando le mesi accumulano o quando abbiamo tanti compiti e non sappiamo più da dove iniziare perché sospesi sono tanti iniziate da quelli che possono essere risolti entro due minuti cioè le cose più semplici le mail più rapide le telefonate più dirette facendo in questo modo cioè risolvendo prima quello che può essere diciamo integrato in due minuti entro due minuti iniziamo a liberare sospesi a risolvere sospesi a liberare energia e quindi abbiamo più energia il nostro cervello soprattutto riesce a portarsi con più intensità nei compiti più difficili questa regola semplicissima a me personalmente salva la vita nei periodi di grande costipazione lavorativa ma anche appunto relazionale quindi in questo appuntamento dei cinque minuti oggi abbiamo parlato della regola dei due minuti grazie a Daniel Lumera alla prossima grazie a voi